Buonasera a tutte ragazze, buon sabato e quindi buon fine settimana. Allora sarà un get ready oggi with me, stasera molto semplice e sportivo, poi dopo vi farò vedere il mio outfit. Allora iniziamo come prima cosa, allora io per questi capelli e gli infiniti uso i capelli ok spero che riuscite a vedermi, ecco riuscite. Come prima cosa applicherò il balsamo labbra, quindi vabbè un semplicissimo buon cacao, io userò questo qua dell'Avon, vedete, ed è buonissimo, cioè è proprio una cosa spettacolare ed è anche fatta per far durare di più il rossetto. Allora poi applicherò il correttore, io appunto uso come avete già visto altre volte questo qua della Essence, il Matt Sand 01, che però andrò a mischiare con quello dell'Avon che che ti muove lo fa, e poi farò vedere. Allora, ecco qua. Ok. 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 Come vedete, succedono degli incidenti, perché è molto morbido. E poi applichiamo il primer occhi. Uso sempre questo dell'Avon, che è il light beige. Mi trovo abbastanza bella anche con questo. Appunto, userò... Allora, aspettate che nel frattempo... Ok, controllavo appunto se stava registrando, visto le ultime lotte. Allora, questo qua è della Deborah, 24 ore perfect. Ed è il numero 03, Caramel Beige. Presente e adatto per tutti i tipi di pelle, all skin types. Agitare prima dell'uso e... Quindi noi agitiamo. Poi userò questa spugnetta, che non mi ricordo dove l'avevo acquistata. E la bagno leggermente d'acqua. Metto sul mio palmo il fondotinta. E lo inizio a picchettare con la spugnetta e lo applico. Così. Comunque dice che non è l'effetto maschera. Infatti se ne ho provato a mirare l'effetto maschera, ho provato a mirare l'effetto maschera. Ho provato tutte altre volte. Sì, adesso. Che caldo. Che caldo. Che caldo. Che caldo. Spero che vi sia piaciuto il leggero di with me che avevo fatto il tema. Ho visto anche il video nei commenti, quindi molto positivi. Ovviamente se non l'avete visto andato a vedere, se volete ve la leggo a fine video. Oppure non lo so, se volete ve la metterli qua. E iscrivetevi mi raccomando così. Potete seguirmi tranquillamente senza problemi. E non vi perdete i prossimi video. E almeno vedete quando carico i video. Purtroppo non riesco a caricarli in modo continuo. Almeno una volta strano riesco. Purtroppo ce li faccio quando posso. Perché appunto è il periodo degli esami per chi sono le stazioni. E purtroppo sono casinato per quello. Quindi per davanti se non carico sempre subito i video. Lo metto un po' sul collo. E ora fino a vedete non fa quell'effetto mascherolo comunque. Quell'effetto assurdo. Se non lo fa. Bene, mi lavo le mani. Non so se riuscite a vederla. Ecco qua. Dell'Avon. E ha praticamente... Non so come farvi parla a vedere. Questi ombretti. Sono carinissimi. Ecco. Poi ha... Oh mio Dio. Quelli per le labbra. Spero che riuscite a vedere. Tanti rossetti. Farde. Tutti di più. Quindi è ben completa. Questo colore qua. Questo rosa. Qua. Sulla parte della moglie. E lo facciamo così. L'altro occhio. Fondo qua vi dicevo non... Così. Poi prendo. Questo colore qua. Questo rosa antico. E l'ottico qua. Sulla schede. Qua sull'acqua. Sulla città. C'è un po' di rossino. Coltore. Questa è la pietra dell'occhio. Tanto per andare ad intensificare. Ce la posso fare. Uno sguardo. Bene. Allora. Poi prenderò. La mia spazzolina per le sopracciglia. Ok? E quindi vado a spazzolare. Una forma. Vedete? Così. E se la cosa faccio qua. Prendete una matita per sopracciglia. Io uso questa qua dell'Avon. Che è la Dark Brown. Vediamo se si vede. Ok. E vado a sistemare. Così. Poi dopo di ciò. Sto morendo di caldo. Dopo di ciò. Applicherò. Massive. Super scrivente. E cremosissimo. Quindi state attenti quando l'andate applicare. Questa qua dell'Avon. Che è la Super Shock. Ed è vero. Gel eyeliner. E' vero. Fa l'effetto gel. Ed è la tonalità. Che non so. Plume o qualcosa. E' bellissimo. Ok. E facciamocire un po' con il nostro. Ma è che volevo fare un'esperienza. Poi se ne va. Furtroppo. E' vero. E' vero. E' vero. E facciamocire un po' di qua. Ok. E' vero con quella. Della crematita. Si è volentemente. E' vero. Bene. Dopo di ciò. Io direi di applicare. Cosa? Il mascara. E userò appunto questo. Avon Super Shock Max. Mascara. E' un 10 ml. Ed è la tonalità black. Ed è a un packaging bellissimo. No te che amo. E' un 001. E' un 003. a presto applicherò questo lip gloss si da stasera un lip gloss che è da tonalità strawberry shine questo qua è l'effetto spero che riuscite a vedere il colore questo qua è il colore e poi applicherò il fard che non può mancare ed è questo riuscirò prima o poi ecco qua dell'avon ed è l'idea luminose blush fard ed è il colore ross è la tonalità quindi se qualcuno compra da avon e gli piace è molto buono mi sto trovando bellissimo scusate ma ogni tanto controllo se registra bene quindi il trucco è questo e ci vediamo fra poco per vedere l'outfit ciao bene ragazzi allora l'outfit è questo una semplice magliettina vedete ho poso la borsa e dietro è fatta così bianca e poi ho questa gonna che praticamente è tipo a vita alta con questa cintura solo che una volta va via e e ha questi due spacchi e poi infine le converse perché è una serata appunto sportiva e quindi useremo le converse poi ho messo questo anello e questi poi questi due bracciali come accessori vabbè il mio orologio poi come collana ho questa qui e gli orecchini quelli della oddio si andiamo quelli della tresor come se li conoscete la borsa in questione è questa qua dell'allenato balestra e vediamo così se riesco niente ragazze il video appunto è terminato spero che vi sia piaciuto un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao